sono all'hotel natale anche loro nostri clienti qui a cortina d'ampezzo e hanno scelto anche loro di utilizzare la doppia connessione una in fibra l'altra in radio di backup per essere tranquilli e sicuri nel caso ci fosse un problema con la rete internet loro non rimangono isolati ecco mi trovo all'interno dell'hotel natale e stiamo verificando tutti i collegamenti se è tutto ok ma pare proprio di sì ciao ciao